Salve a tutti cari ragazzi, bentornati ovviamente in compagnia di Guerzi, in compagnia di EvoSmart.it Finalmente dico io delle luci, finalmente sono ritornato a registrare quest'oggi, per il momento solo per quest'oggi un video unboxing molto ma molto particolare. L'occasione è sicuramente degna perché questo è la Xiaomi Mi 10 Youth Edition quindi l'ho importato dalla Cina, ringrazio come sempre Massman e ovviamente è la variante che poi arriverà in Italia in versione globale chiamata Zoom Edition. Queste sono le notizie che io ho, io poi se Xiaomi cambierà i suoi piani ovviamente poi ve lo dirò. Allora ragazzi come avete visto si torna a fare video unboxing in questa sede si torna finalmente a battere, come si vuol dire, il terreno quindi mi raccomando per questo video unboxing perché non ci sarà solo questa di novità, non vi preoccupate, un bel like qua sotto è fondamentale una condivisione del video e in particolar modo, cioè guardate anche che maglietta mi son messo la Mi Community, la saluto, saluto tutto, saluto utenti Xiaomi Italia di Facebook mi raccomando ragazzi iscrivetevi al nostro canale YouTube, è fondamentale, è importantissimo, vi aspetto come vi aspetto anche domani sera in live su Twitch, troverete qua sotto il link del canale detto questo vi faccio vedere subito cosa contiene il box di questo Xiaomi Mi 10 Youth Edition ragazzi allora direi tavola apparecchiata e tavola apparecchiata molto molto bene qui vi ho inserito tre smartphone, nello specifico abbiamo il Mi Note 10, abbiamo lo Xiaomi Mi 10 e abbiamo lo smartphone che sarà protagonista nel video di domani, 24 ore con lo Xiaomi Mi Note 10 che ci arriva direttamente da Xiaomi Italia che ovviamente ringrazio, vedete non ho il box di vendita perché ci ha fatto veramente un favore a farcelo arrivare il prima possibile e quindi nel video di domani vi dirò le 24 ore con quello smartphone. Allora intanto visto che sicuramente avrete una scimmia incredibile vado a prendere il taglierino che avevo lasciato qua in ufficio e ritrovo finalmente, vado ad unboxare questo Mi 10 Zoom Edition Youth, come volete chiamarlo, chiamato come vi pare caratteristiche ovviamente Snapdragon 765, ovviamente 5G in questa versione è 128 GB, 8 GB di storage interno guardate anche confezione, è veramente carina, veramente carina iRes Audio, queste sono le caratteristiche dello smartphone intanto andiamo subito ad aprire il box, eccolo qua allora, qui ci dovrebbe essere sicuramente una coverina per andare a proteggere lo smartphone c'è anche lo spillettino per rimuovere il vano delle sim sì, abbiamo anche una cover uh, abbiamo anche degli stickers, guardate carini, molto carini abbiamo anche per abbellire i nostri computer, magari per abbellire il nostro ufficio non lo so, quello che volete comunque cover, eccola qua, silicone trasparente, silicone morbido qui ci sono le fotocamere che già richiamano il design dello smartphone vi faccio vedere anche cosa contiene il box di vendita ovviamente carica batterie, versione cinese, quindi non è la versione europea e poi abbiamo il classico cavo USB USB di tipo C quindi una confezione molto classica in stile Xiaomi allora adesso, mi raccomando, in silenzio apriamo e togliamo il tutto eccolo qua beh, che dire, sicuramente molto molto elegante questo Xiaomi Mi 10 Youth Edition chiamiamolo Zoom Edition, dai allora, vedete una delle particolarità sta subito qua nella parte posteriore quindi nella fotocamera, vabbè, il sensore principale da 48 MB però abbiamo anche il 50x quindi uno zoom veramente interessante ecco perché viene chiamato Zoom Edition appunto, adesso lo vado ad accendere vabbè, parte destra con bilanciere del volume tasto power on e power off vi dicevo, molto molto elegante una parte retro che ovviamente è stondata per permetterci un grip ottimale abbiamo una pellicola premontata di fabbrica e poi abbiamo il notch che nasconde la fotocamera frontale adesso vado ad avviare lo smartphone eccolo qua che si è avviato ovviamente lo sapete, per il momento non c'è il Play Store e lo dovrò scaricare abbiamo la lingua inglese oppure la lingua cinese perché come vi dicevo lo smartphone viene importato dalla Cina quindi questa è la variante cinese per carità lo andrò a testare andrò a vedere un po' il funzionamento andrò a vedere tutte le funzioni e soprattutto sono assolutamente curiosissimo di vedere questo zoom veramente super super interessante in questa modalità vedete il sensore 48 megapixel per le foto ovviamente non abbiamo al momento la MIUI 12 poi verrà aggiornato nel tempo ve lo metto molto velocemente anche a confronto del Mi Note 10 Lite che eccolo qua che lo sto provando vi dicevo che lo sto testando poi domani vi farò vedere un video dedicato quindi le 24 ore con lo smartphone ve lo metto anche a confronto al Mi 10 quindi la variante in teoria superiore anche di processore 865 contro 765 eccoli qua i due smartphone sono ovviamente differenti ma anche la fascia di prezzo sarà differente questo ragazzi come sempre era un primo impatto un video unboxing le prime impressioni che sono sicuramente positive poi guarderemo in ambito quotidiano se lo smartphone sarà all'altezza o meno comunque vedete Xiaomi sta veramente portando in Italia tantissimi tantissimi prodotti molto interessanti secondo me e poi per una fascia di prezzo veramente vasta si parte da abbondantemente sotto i 200 euro per arrivare ad oggi al Mi 10 Pro che costa 999 euro voglio sapere la vostra opinione come sempre qua sotto nel box dei commenti per questo Xiaomi Mi 10 Zoom Edition Youth Edition chiamatelo come volete insomma avete capito il telefono per oggi ragazzi è veramente tutto e noi come sempre ci vediamo nei prossimi video ciao a tutti ragazzi